Consulenza legale per i consumatori ma non solo. Arco Consumatori apre una nuova sede a Silvi, un punto d'ascolto per la cittadinanza che servirà anche da cassa di risonanza per le richieste e le proposte da sottoporre all'amministrazione comunale. Stiamo già lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale perché tutta una serie di proposte che stiamo facendo stanno trovando a nostro avviso almeno un certo tipo di ascolto. Naturalmente il nostro compito non è quello di sostituirci a nessuno, il nostro compito è di cercare di costruire regole corrette, di verificarle attraverso le carte dei servizi, attraverso le carte della qualità ma soprattutto essere di stimolo all'amministrazione non soltanto come elemento di contrasto ma laddove ci sono delle carenze, delle mancanze ma soprattutto come proposta e quindi seguire per arrivare insieme a dei risultati. Migliorare i servizi offerti dal comune di Silvi è questo l'obiettivo e la sfida che Arco Consumatori lancia partendo da proposte concrete per la vita cittadina invernale ma soprattutto per la stagione estiva. Silvi può vivere anche di turismo se riesce in qualche modo a integrare molte delle sue potenzialità con le cose che già esistono, stabilimenti balneari con un verde pubblico che sia attrezzato per svolgere diverse attività che soprattutto d'estate e nel pomeriggio non vengono assolutamente coltivate e quindi abbiamo un problema di fare proposte continue a questa amministrazione per migliorare la qualità della vita.